Alessandra Catana con la K, io la chiamo anche se lei dà fastidio, Catana con la K Buonasera a tutti, se si prova Se dai retta a tutto quello che dicono loro solo per colpirti e farti male Lasciali parlare e ti sussurrano parole che hanno covato dentro Se la frustrazione è un male che colpisce chi concentra solo l'esistenza A puntare il dito verso gli altri è mai verso Se capirai che solo rumore, fervido e valore Ociferare Se capirai che la soluzione è lasciare andare Non sentirsi più un pensaglio amato è facile